Ad una settimana esatta dall'inizio della stagione, 19 agosto fissata la data del raduno, oggi lunedì 12 agosto si comincia con la campagna abbonamenti, è il primo step di questa nuova stagione? Sì, il primo nostro step ufficiale, dato che poi il 19 tutta la squadra si radunerà, saranno tutti assieme perché i due americani arrivano fra il 17 e il 18, tutto a rossa sarà già a disposizione del coach, con poi dei ragazzi del nostro settore giovanile che faranno da sparing partner importanti durante la preparazione e poi anche durante l'anno. Il nostro primo step ufficiale inizia la campagna abbonamenti, sarei contento di superare il numero dell'anno scorso, di arrivare a questa fatidica quota 2000, proprio per cercare di legare ancora di più una squadra che farà della solidità e della compattezza, l'unione e il rapporto con i tifosi che al tempo stesso devono stare solidi e compatti. Ecco, si riparte dal rapporto con i tifosi che sono il grande patrimonio della Scalicera Basket. Sì, sono un grande patrimonio perché l'anno scorso siamo stati il terzo pubblico della Serie A, quest'anno sarebbe bello arrivare alla prima posizione, perché creare un ambiente gestisticamente forte durante le partite ci può permettere di rubare qualche vittoria qua in casa perché abbiamo bisogno che tutti siano vicini a questa squadra che magari non sarà fantasiosa come l'anno scorso, ma sarà una squadra che ha un obiettivo comune che è quello di provare a portare la Scalicera in Serie A. Una stagione che porta anche delle novità da un punto di vista degli appuntamenti perché si partirà con la Supercoppa, poi ci sarà la regular season, quindi cambiano un po' anche quelli che sono gli appuntamenti durante l'anno. Sì, è cambiato un po' la schedule di questa Lega 2 e ci sarà questa Supercoppa che porterà una Final Four e una vincitrice, però per noi è un modo di prepararci con delle partite di prestagione e quindi di testare sia fisicamente che tecnicamente il lavoro che stanno facendo durante la settimana. Poi ci sarà una regular season molto lunga e alla fine di questa regular season altri sei partiti di orologi incrociandoci con l'altro girone. Quindi mi ripeto, sarà una stagione dura, sarà una stagione dove ci saranno sicuramente alti e bassi, dove dobbiamo cercare di essere tutti belli e compatti e di andare assieme noi, la società, gli allenatori, i giocatori e soprattutto il pubblico verso la fine e essere pronti per i nostri play-off.